12 anni e 6 mesi per Ugo Di Puorto, 12 anni e 5 mesi per Raffaele Mormone, 11 anni e 10 mesi per Andrea Cavallari, 11 anni e 6 mesi per Moe Zakari, 11 anni e 3 mesi per Suai Baddada, 10 anni e 9 mesi per Badr Amuia. Totale 70 anni di reclusione per i 6 imputati della strage alla Lanterna Azzurra, condannati in via definitiva per omicidio preterintenzionale, associazione delinquere, lesioni personali, furto e rapina. Niente più appelli o ricorsi. A 4 anni da quella tragedia assurda consumatasi nella discoteca di Corinaldo durante la notte fra il 7 e l'8 dicembre 2018 in cui morirono 6 persone e si contarono quasi 200 feriti, ieri a Roma è arrivato l'ultimo giudizio della Corte di Cassazione, che non ha fatto sconti alla cosiddetta banda dello spray. Confermate tutte le pene ai 6 ragazzi del Modenese, che spruzzando spray urticante ai fini di rapina fra la folla del concerto del rapper Sfera e Basta, generarono una calca fuori controllo. Fra sembramenti all'uscita e crollo delle balaustre del locale, morirono 5 giovanissimi fra i 14 e i 16 anni. Emma Fabini e Daniele Pongetti di Senigallia, Asia Nasoni di Marotta, Mattia Orlandi di Frontone, Benedetta Vitali di Fano. Con loro perse la vita anche la 39enne di Senigallia, Eleonora Girolimini. Il gruppo criminale dei 6 rapinatori seriali, di età compresa fra i 23 e i 25 anni, che con questo metodo faceva razzia di collanine d'oro, è già in carcere dall'estate 2019 e ci resterà ancora per molti anni, visto che ieri la Cassazione ha respinto tutti i ricorsi delle difese degli imputati. Soddisfatti i familiari delle vittime presenti in aula a Roma al momento della sentenza. Parti civili che, chiuso il processo per la banda dello spray, aspettano ora gli esiti del processo bis sul filone amministrativo riguardante la sicurezza del locale.